Nelle puntate precedenti hai detto che Nels stava parlando di un accordo con Stodd. Accetto l'accordo. Tu, Stodd, è tutto vostro. Da ieri sono il vostro nuovo capo. Tapp e Tyson sono cresciuti insieme. Due bianchi a cui piaceva il quartiere. Tapp è rimasto. Capitano, qui c'è tutto quello che deve sapere. Ma che cazzo? Kai? Ero certo che avremmo potuto lavorare bene insieme. Zitto, Megaf. Ho detto zitto. Caccio, sta zitto! Ehi, che vuoi fare? Arrestarmi? Dai, come... Ehi, Megaf. E basta! Stanne fuori, Mendoza. Prego. Buonasera, detective. Tapp. Sì, siamo entrambi parecchio lontani da Miami. Ehi, mister! Guarda dritto! È un piacere parlare con te, Tapp. C'è della merda bella grossa che si sta muovendo. Tapp, non ho intenzione di parlarne. Non prendertela con me! Io sono solo il messaggero. Tyson mi ha detto... Ehi, 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 aspetta. Tyson Latchford. Ah, quindi adesso mi ascolti. Ok, sta a sentire. Il piano è questo. Oh, merda. Tyson. Dovevo avvisarti, ma... Cazzo, amico. Racciti e basta! Tapp, che cazzo succede? Si comincia! Cazzo succede! Cazzo succede! Cazzo succede! Pesante. Voglio che non ti dica da quanto ho questa chiave. E soprattutto dove l'ho conservata. Che stai facendo? Tyson ti raggiungerà la torre idrica. Non appena avrà finito con la polizia. Aspetta, cosa? Vai alla torre idrica. Ehi, un momento. Dove stai andando? Amico, comprendo il idioma. Torre idrica. Vai! Sì, in arrivo. Espegniamo l'inforzabilità. Polizia, a terra! Comando, qui è unità mobile 2. Due detenuti a terra. Cosa? Ma che cazzo? Qui mi servono delle torce. Ne ho uno qui. Regioniero, a terra o sarà infolgorato. Stai per le torce. Ehi, tutti di questo! Ehi, tutti di questo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi dispiace, amico. Meglio a te che a me. Tornerò indietro. Centrale, servono gli sforzi. Agenti a terra. Che succede? No, perdono. A terra ho tifico. Non parmi, chiuso. Se siete dentro, fatevi vedere! Nessuno! Vaffanculo! Io ci provo! Calma, calmati! Non esporti! L'ho visto! Fate luce qui! Vuoi un'appunto mirata? A tutte le unità, sul petto individuato, seguite il riflessore. A terra, un desiderio! Il sottoriflettore, seguite l'apertura. Vi apurti volante! Cosa? Cosa? Il sospetto è qui! A terra, un desiderio! Sotto di noi, seguite la nostra rincona! Sono 50.000 volti! Il perimetro intorno al distributore è in sicurezza. Non ci scapperà. Ti raccomando che il lato 4 è sotto controllo. Già fatto. Ma che cazzo? Ma non lo vediamo. Centrale, l'abbiamo perso. Troviamo l'area. Troviamo l'area. Nessuna traccia del sospetto. Cos'è stato? Cos'è stato? Ma che cazzo? Cosa? Cosa? Centrale, l'abbiamo perso. Controlliamo l'area. Ma che cazzo? Ma non lo vediamo. Un'area che ha fatto un'area. Un'area che ha fatto un'area in arrivo. Si è punto. Cosa? Un'area che ha fatto un'area in arrivo. Un'area che ha fatto un'area che ha fatto un'area in arrivo. Un'area che ha fatto un'area in arrivo. Un'area che è verona con un Paese in arrivo. Un'area che ha fatto un'area in arrivo. Ci sono i lai sono i il founds ف. Un'area che si in qualche modo dimentica è un po' di risc hall除. Avrai delle domande da farmi. Che cazzo ci fai qui? E perché cazzo Tapp aveva le chiavi delle mie manette? Ah, gente. Dovresti sentirti lusingato. E poi Tapp era in debito con me per quello scherzetto del microfono. Sì, ma non è scappato con me. Tapp, la prigione gli farà bene. È il posto ideale per disintossicarsi dalla cocaina, fidati. Senti, stronza, non so in che casino mi hai trascinato. Ehi, ehi, ehi! C'è qualcuno con cui devi parlare. Tieni, prendi questo. Che cazzo è? Lo vedi il cartellone? Manda tre segnali di luce. Ravvicinati. È lì che devi... Ecco. Rinanziamo al sicuro. Dobbiamo dividerci. Tyson. Ci vediamo giù. Oh, i flettori. Merda. A tutte le unità, sospetto sul gaccio della collina. Patroiamo la zona. Grazie, pensionazzo. La vostra situazione. È così, sta avicinando la collina. Per quanto è il rado, a quel che si parla è il rado. Com'è il rado. Cosa è il rado. Non, 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 non. Non, 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 non. Il sospetto è colpito un presente! Non provate a nasconderti! E spesso farà per voi! Non muovere si cazzo! È là sotto da qualche parte, non lo vediamo! Vedremo di ritrovato! Vedremo di ritrovato! Agente a terra, l'obiettivo oppure resistenza. L'obiettivo oppure resistenza. Agente a terra, obiettivo fuori resistenza. Oui! Ce l'hai fatta? Mi piace il nuovo look, comunque. Che ci fai qui, Tyson? Abbi pazienza. Lo scoprirai. No, no, voglio risposte ora. Dimmi cosa ti ha fatto pensare che far esplodere l'autobus con me dentro fosse una buona idea. Era una pessima idea, ma ha funzionato. Forza, seguimi. Non ci credo, mi prendi per il culo. Il trasferimento di TAP. La chiave. Poliziotti corrotti, sappiamo su cosa fare ne va. Senti, per quello che vale, mi dispiace. Dammi un buon motivo per non stenderti. Uno, reagirei. Non ne dubito. E due. Julian Doos. Pensaci. Mi ha messo fuori gioco. Ti ha incastrato e alla fine ha fregato anche lei. Sei l'unico di cui possiamo fidarci. Fidarsi. Io che cosa potrei mai guadagnarci? Doos deve capire che le sue azioni hanno delle conseguenze. Sei sempre stato il tipo da sbattiamoli dentro, no? E se invece vi dicessi di andare a farvi fottere? Allora andremo a farci fottere. Già. Come? E tu vinci un bel pigiama a righe. È davvero una scelta così difficile? Allora andremo a farci fottere.